Salve Swingsettiane e Swingsettiani e benvenuti a una nuova puntata di Di Tutto Un Pop, il programma del venerdì pomeriggio di Radio Swingset, in replica lunedì alle 17, sempre su Radio Swingset, in cui parliamo di alcune notizie curiose del mondo e ascoltiamo tanta buona musica. Oggi è venerdì 25 marzo, quindi è l'ultimo, stiamo andando verso l'ultimo weekend di marzo e come da non mi ricordo quanti anni, da tanti anni e non si sa ancora per quanti anni ancora, ci sarà il cambio dell'ora, perché ho detto non si sa per quanti anni ancora, perché non è ancora chiaro se l'Unione Europea ha deciso di togliere appunto il cambio dell'ora dopo un referendum che è stato fatto tra tutti i paesi aderenti all'Unione Europea o meno, togliamo il cambio dell'ora, però ancora non si è fatto niente, quindi chissà. Quindi la notte, il sabato e la domenica andremo un'ora avanti perché tornerà l'ora legale, però vi avviso, se farete la battuta di legale in Italia è rimasta solo l'ora, che stress, basta, non fa più zidere. Io, davvero, non la dite, non fa più zidere. Ma andiamo subito con la musica, andiamo subito con la number one song, così ci scateniamo un po', che era prima in classifica il 25 marzo, ho scelto come anno il 2011, c'erano Jennifer Lopez, J.Lo con Pitbull, a proposito che fine ha fatto Pitbull, prima si ascoltava in ogni canzone, c'era una sua collaborazione, adesso è sparito, chissà che fine ha fatto, non so se dovrei chiamare chi l'ha visto, non lo chiamo chi l'ha visto perché ne faccio anche volentieri a meno, di tante canzoni in collaborazione con Pitbull, quindi dicevo che la prima in classifica in Italia nel 25 marzo 2011 c'erano Jennifer Lopez e Pitbull con on the floor, quindi iniziate preparate a scatenarvi, fate anche i trenini da soli, va benissimo, iniziamo subito così. Prima di dirvi la prima notizia della puntata, ho bisogno di farvi ascoltare un piccolo pezzo di un brano che riassume perfettamente quel che sto per dirvi. E vorrei anche ringraziare personalmente WhatsApp, quindi Zuckerberg, finalmente le mie preghiere sono state accolte e ascoltate perché sta finalmente arrivando una nuova funzione sulla nota app di messaggistica, appunto WhatsApp, che potrebbe risolvere una piccola grande piaga, ovvero le catene di Sant'Antonio. Tutti abbiamo ricevuto almeno una volta nella vita quei messaggi inoltrati, rinoltrati, li mortacci vostra, quante volte li avete inoltrati, che cominciano con un pallino rosso e manda questo messaggio a dieci persone per far accadere qualcosa, che in genere serve per evitare malattie e morte, perché la maggior parte delle volte, non so perché, questi messaggi finiscono in tragedia. Per la serie, se non inolzi questo messaggio a 170 persone, briciole sul letto per l'eternità. Praticamente più che catene, alcune sono vere e proprie minacce e ultimatum di Sant'Antonio, più che catene. Quindi, oltre al fastidio e le bestemmie, perché ve lo dico, se mi conoscete e mi inviate questo tipo di messaggi, io ve lo dico, ogni volta che mi inviate una catena, soprattutto sui gruppi, inizio a cantare Donatella Rettore. Esatto, viene proprio Donatella Rettore a cantarmi la mette. In più, ciò che è giusto, c'è anche un problema legato alle fake news, per quanto riguarda le catene di Sant'Antonio, perché finché sono, manda dieci messaggi, a parte la rottura di scatole, vabbè, pazienza, è tempo perso, però vabbè, dai, chiudo un occhio. Però spesso, purtroppo, questi messaggi circolano false notizie, perché se nel migliore dei casi la falsa notizia è, se non condividi questo messaggio, l'icona di WhatsApp diventa blu e WhatsApp diventa a pagamento, però durante la pandemia, e non solo, purtroppo, durante la pandemia, è circolato di tutto, ma davvero tutte le false notizie, tutte, tutte su WhatsApp sono arrivate. E quindi, cosa ha pensato WhatsApp? Facciamo tornare l'app a pagamento come un tempo, così vi preghiamo la catena di Sant'Antonio diventa realtà? No. Ma con la nuova funzione, quando un messaggio viene condiviso, verrà segnalato un avviso che indica se è stato inoltre altro molte volte. Questo già accade. Ma cosa succederà in più? Non sarà possibile inviare il messaggio su più gruppi WhatsApp, limitando quindi l'invio a un solo gruppo. Al momento non si parla di chat singole, però vedremo in futuro. Basterà questo per fermare le catene di Sant'Antonio? Purtroppo no, ma magari. Fermerà magari solo i più pigri? Peccato che gli stupidi che abboccano e pensano di fare un favore agli altri sono molto, ma molto di più. Perché è vero che lo scopo è limitare lì inoltre a tanti gruppi e quindi nei gruppi magari una platia immensa, però niente impedisce all'utente di fare copia e incolla del messaggio, quindi far ripartire il contattore di quel messaggio che continuerebbe a circolare indisturbato dipondendo le fesserie all'interno del messaggio. Quindi Zuckerberg va bene e comunque è già un inizio, però io ti chiedo un altro favore personale. Per favore limita anche le immagini di buongiorno, buon pranzo, buona serata, buonanotte. E adesso facciamo un salto in Spagna con il genio della settimana, anzi la genia. Parliamo un attimo di Carmen Gimenez, sicuramente ho sbagliato la pronuncia del cognome e quando mai. Quindi per semplicità chiamerò questa signora semplicemente la signora Carmen Abanera, va bene dai, vive a Madrid e ha 57 anni. E perché le sto dedicando uno spazio qui su di tutto un pop? Perché per 28 anni ha vissuto come se fosse cieca, quando in realtà ci vedeva benissimo, ingannando non solo le autorità sanitarie ma anche i suoi familiari. E questo perché? Per avere soldi? No, almeno non è quel che dichiara lì. Ero stanca di incontrare gente per strada e fermarmi a salutare. Se non fosse una truffa, lo faremmo, lo faremmo parecchi di noi. Solo che io lo farei, non solo per non salutare alcune, non tutte, alcune persone, ma anche perché quando morirò così non potranno dire salutava sempre. No, alla signora Carmen Abanera di sicuro non lo diranno. Carmen ha subito 28 anni fa un grave incidente agli occhi che avrebbe potuto farla diventare cieca per sempre, ma per sua fortuna la vista è rimasta. Ma lei decise comunque di raccontare una bugia alla sua famiglia, ma anche al suo medico, per, a suo dire, vivere più serenamente. Evidentemente non poteva vedere nessuno della sua famiglia. Carmine ha anche dichiarato di non essere mai stata una persona molto socievole e fingere di essere cieca gli ha permesso di evitare molte, a sempre a suo dire, responsabilità sociali, addirittura la faccia a responsabilità sociali. Ma non poteva limitarsi a far finta di parlare al telefono per non fermarsi a salutare? Almeno non suffava le autorità sanitarie togliendo fonti a chi ne ha davvero bisogno. Oppure un altro metodo, musica gli auricolari a tutto volume, così non vedi e neanche senti. Cioè se ti salutano, ehi Carmen, no, non hai sentito. Secondo me era stata sgavata perché quando passava qualcuno che conosceva, attraversava la strada per evitare che fosse la conoscente o il conoscente a fermarla. Oppure poteva semplicemente cambiare cittadinanza, eh? Da spagnola a cieca. Però comunque davvero la famiglia non ha notato nulla. Qualcuno pare essersi sospettito. Si era reso conto che qualcosa non andava. Per esempio sembrava che Carmen riuscisse a vedere la tv. Alcune volte di soppiatto si vedeva che lo sguardo andava verso la tv. Oppure il marito si chiedeva come facesse da cieca a zuggarsi così bene. Beh, ci ha messo 28 anni per capirlo. E come è andata a finire per la signora Carmen a Banera? Non bene. Ricordate che ha truffato anche lo Stato. E quindi una bella denuncia è appunto un processo per truffa. Quindi, se anche voi non vedete l'ora di provarci, pensateci molto molto bene. Rimarrete senza amici e familiari. E vabbè. Ma una denuncia non ve la toglierebbe nessuno, eh? E quindi in Spagna c'è gente che si finge cieca. Qui da anni c'è gente che si finge intelligente. Tranne mio marito. Lui è davvero intelligente. Come lo so? Beh, ha sposato me. Radio Swing Set. Ed era il nuovo singolo degli Imagine Dragons. Bones qui su Radio Swing Set. Parliamo adesso di una trasmissione televisiva. No, non dirò qual è. Non dirò che si tratta di Domenica Inn. dove Amanda Lear commenta un'attrice che l'interpreta nel film dedicato alla vita di Salvatore Dalì. Attrice di cui non è contenta della scelta. E ok, ci può stare. Anzi, è del tutto legittimo come considerazione. Se non fosse che la frase che dice in diretta per criticarla è Non mi piace, sembro, scusate se cito le testuali parole, sembro una mignotta ucraina. Come sempre, dopo che ci sei resi conto di aver detto la fesseria, arrivano le scuse. Ma soprattutto queste scuse arrivano perché c'è stata la polemica. Altrimenti, figurati. Le solite, sapete, le solite scuse. Non volevo offendere, stavo scherzando con tante A. Appunto, le solite scuse. Sicuramente c'è un manuale perché queste scuse sono sempre tutte uguali. Le solite scuse in cui, in fin dei conti, non ci si scusa perché effettivamente non si è scusata. Ma possibile, soprattutto in un momento storico delicato come questo, non rendersi conto della gravità di quel che uno dice o che uno fa. Non ci credo che non si resa conto, non si sarebbe aspettata la polemica, che non si resa conto che la sua battuta non era una semplice battuta, ma sono offese che vengono spacciate per battute. Figurati, capitano troppo spesso, non dovrebbero succedere, ma capitano troppo spesso. E' una battuta, e sto dicendo battuta con tante virgolette perché, dai, diciamo, non sono battute quelle. Sono frasi che dovrebbero essere lontanissime dalla tua sensibilità. E non capire il problema significa dimostrare che non ti interessa di quel che succede intorno a te. Questo non vale solo per la mandaliere, vale sempre per chiunque. Sono persone che pensano di poter dire tutto quel che si vuole senza pensare alle conseguenze. Eh, ma non si può dire più niente. Come ho già detto in una puntata passata, nì. Però, pensate questo, se una di queste battute fosse diretta a voi, o a qualche persona a voi cara, che fareste? Ridereste? Scherzereste? Sareste felici di quella battuta? Perché poi per voi è una battuta quella, dovreste ridere insieme alla persona che l'ha detta. È facile dire, non si può dire più niente quando riguarda altre persone. Ma magari, alcune volte, sarebbe ideale non dire niente. Non sai mai come potrebbe reagire l'altra persona. E poi, limite mio, non capirò mai dov'è la battuta divertente quando si sta offendendo un'altra persona o un'intera categoria di persone. Questa era giusto una mia opinione, ve l'ho buttata così, fatemi sapere voi cosa ne pensate tramite i nostri contatti. Ma adesso andiamo avanti con la Event Song. Il 25 marzo 1942 nacque a Rita Franklin, la regina del soul. Se fosse ancora in vita, oggi avrebbe compiuto 80 anni. Noi la vogliamo ricordare qui su di tutto un pop, ascoltando Respect, che è quel che si dovrebbe avere sempre. Quando penso a Sansa Bullock, mi viene in mente il film Gravity, che ho visto solo una volta al cinema e lo trovai molto, molto carino, mi piace tanto. Però puoi sentire le dichiarazioni di Samantha Cristoforetti, che anche lei l'ha visto al cinema, ma ha visto dall'inizio alla fine, mentre tutti gli altri spettatori si stavano emozionando. Mi sarebbe davvero piaciuto vedere la scena di Samantha Cristoforetti sidere al cinema. Mi è appena venuta voglia di rivedere Gravity, ma non è di questo che vorrei parlarvi. Penso che non ve ne freghi niente. Avete anche ragione, eh. Non credo a serva dirvi chi è Sandra Bullock. Ha recitato sia in comedie romantiche, forse è molto più famosa proprio per questo, ma anche in film drammatici. Se siete fan di Sandra Bullock, ho una brutta notizia per voi. A Entertainment Tonight, Bullock ha annunciato di prendersi una pausa dal mondo del cinema per poter stare con la sua famiglia. Ora ho bisogno di stare nel posto che mi rende più felice. E quel posto è a casa, con i miei due figli. Prendo il mio lavoro molto sul serio. E quando lavoro è per 24 ore, 7 giorni su 7. Praticamente è una collega di Renatino, quello della pubblicità del Parmigiano, ve lo ricordate? Che dice tutto contento di essere molto felice, di lavorare ininterrottamente per tutti i 365 giorni dell'anno, 366 è l'anno bisestile. Poi Bullock ha anche aggiunto che adesso vuole stare 24 ore, 7 giorni su 7, con i suoi bambini e la sua famiglia. Ecco dove sarò per un po'. Questo è quel che ha dichiarato. Quindi, non si sa per quanto tempo ha intenzione di lasciare Hollywood, e non è escluso che il suo eventuale ritorno sarà esclusivamente in ambito produttivo, quindi senza più comparire davanti alla cinepresa, però prendersi del tempo per sé non può che parle bene, sinceramente. Comunque, è solo la fine del 2022, quindi è solo la fine di quest'anno, usciranno ben due film con le protagoniste, quindi se siete i suoi fan avrete ancora modo di vederla sul grande schermo. Ho chiesto al signor Frega Niente se anche lui fosse un fan di Sandra Bullock, ma lui non è interessato. Lui preferisce ascoltare le canzoni che gli ricordano la sua gioventù, ossia i canti gregoriani. Prossima canzone per voi, non i canti gregoriani del signor Frega Niente, ma una bella funny song. Sbam! Questo era tutto quello che avevo da dirvi per oggi. Anzi no, vi propongo una sfida, anzi una challenge, come dicono adesso. Se sommando gli ascolti di questa puntata, più la replica del lunedì, più gli ascolti su Spreker, su Google Podcast, su tutti gli altri podcast a disposizione, che trovate, lo sapete, nell'enco completo su www.radioswingset.com, quindi se il totale raggiunge i mille ascolti, faccio un ballo di gruppo su TikTok, poi io mangio un video, qualcosa in diretta, non lo so, cosa fanno gli influencer quando raggiungono un torto di visualizzazioni? Non ne ho la più pallida idea, lo sapete, sono anziana. Anziana. Dai, faccio un video su TikTok, ecco. Però ce la raggiungo le mille visualizzazioni. Per il resto ricordate di divertere il vostro sonoro mi piace, sul nostro profilo Facebook Swing Set Radio, seguiteci su Twitter, seguiteci su Instagram, su YouTube, su Telegram, come detto prima, su TikTok, siamo presenti anche su TikTok, mandateci una mail, se potete, a swingsetradio.com o un messaggio, sms o whatsapp al 327-532-9058. Io sono Federica San Paolo e ci riascoltiamo venerdì alle 17. Care Swing Settiani e Swing Settiani, la puntata di oggi finisce qui, vi mando tanti cari saluti, un bacione alla mamma e alla prossima. Ciao!